Ragazzi, come state? Qua fa freddo, freddissimo, però non potevo non fare la mia recensione su InterAstral 1-0 a Milano contro questi inglesacci di qua, 1-0, Saranogo, su calcio di rigolo. Ragazzi, benvenuti su Squalio Internazionale, chi non è ancora fatto, non si è iscritto al canale, lo faccia. Andate a vedere anche il sito squaliointernazionale.it da cui adesso partiranno grandi cose, come anche la Web Radio, fa poco, però parliamo della partita di stasera, è stata una bella partita, l'Inter ha vinto all'italiana, direi, all'italiana, cioè, con ricordo di Saranogo, dal primo minuto, diciamo che abbiamo anche impostato una partita attenta, abbiamo provato anche, siamo partiti a razzo noi, da quel che mi sembra con Danfis che ha preso la travessa che ancora treva, e poi per ora si è giocato, l'Arsenal, però hanno lasciato giocare senza fare grandi cose, hanno solo fatto tir da fuori aria o cross da fuori aria, sempre state, tutte azioni, sempre fermate dai mitici, Bissek e De Vrij, che secondo me oggi hanno fatto la migliore partita alla quale giocano l'Inter, tutti e due, sono stati bravissimi, in difesa non è passato niente, loro due, anche Pavard, parlo due, soprattutto di testa, Bissek, anche alla fine ha pure accoppato AmaVertz, è stato bravissimo, Bissek, oggi, come dico sempre, è stato bravo, ma è stato bravo anche De Vrij, è stato bravo Pavard, è stata una partita, sofferta, nel primo tempo no, nel primo tempo normale, abbiamo fatto le nostre occasioni, hanno fatto anche loro, però, finita lì, sono calci di rigore, parla traverso all'inizio, secondo tempo abbiamo concesso a loro tutto il possesso palla, però è stata solo una gestione del possesso palla e l'Inter si è allenata a difendere, perché comunque non abbiamo subito di importa, a parte una parata di Somma, che mi ricordi, e hanno fatto solo questi cross da fuori aria, che come ho detto prima, Bissek e De Vrij hanno spazzato, siamo stati veramente tutti bravi, tutti, si sono sacrificati tutti quanti, bravo Ciarano che è il migliore in campo, ma anche Davres è il migliore in campo, e anche De Vrij e Bissek, questi quattro qua io direi che sono stati 4 milioni, però bravo Zerischi, bravo Fattesi a sacrificarsi, è stata una partita che è stata importante per l'Inter, a volte sembrano queste partite, ricordiamo che è la nona partita, l'ottava partita su 9 partite vinte, cioè c'è solo il pari gioco la Juve, in mezzo, nelle ultime 9 partite, quindi penso che Inter stia facendo un grande campionato, nonostante i criticori, nonostante anche noi stessi che non ci piace che sbagliamo tanti gol, potremmo vincere partite a volte a volte con tanti gol di scalte, chiudo da prima, oggi invece siamo anche allenati a dare spazio, perché oggi non c'erano i titolari, ragazzi, tanti titolari sono entrati dopo, quindi sono contento perché abbiamo fatto una grande partita, soffrendo, non prendendo gol, ma perché il Zag ha dovuto gestirsi un po' queste tre partite a Venezia, asserano le Napoli, e quindi di Marchio in panchina, Turamo in panchina, Varello in panchina, Mkhitaryan in panchina, metà squadra in panchina, però sono stati bravi, questa Inter secondo me dimostra veramente di essere le tre squadre più forti che ci sono in Europa, con Liverpool e Barcellona, ma lo metto per iscritto, cioè Liverpool è la prima classifica in Inghilterra, è la prima classifica in Champions League, Premier e Champions, Barcellona è la prima in Premier League dietro di noi, Terzen in Champions, l'Inter, ragazzi, se lo andiamo a vedere, a parte quelle distrazione del pari di gioco con la Juve, saremo stati primi in classifica, ragazzi, se non prendiamo quelle due gol con la Juve, è un 4 a 2, saremo stati primi in classifica, è quello che dico, siamo forti, quindi Napoli sta attento perché la partita migliore, secondo me la faremo contro il Napoli e dobbiamo farla contro il Napoli, però abbiamo preso con il Milan, un progetto con la Juve e un progetto con Manchester City, l'Atalanta la vedo molto bene, in grande forma, anche l'Atalanta ha vinto anche oggi, tra l'altro, 2 a 0, gol di Zaniolo e Lucman, però l'Inter è lì, la squadra, come ha detto questo video di Bauscia qua, ha detto, la squadra dell'Azzurra di Milano, l'Inter, ovvio, anche loro hanno subito 0, gol come noi, però noi ragazzi abbiamo tanti record quest'anno, le ultime 9 partite le abbiamo vinto 8, tanta roba, e oggi sono stati bravi, è stato bravo in Zaghe a utilizzare i giocatori meno, cioè a schierare i tuoi stessi, sono tutti coinvolti nell'Inter adesso, è stato bello anche vedere alla fine quando sono tutti sotto la curva, vuol dire che è proprio una partita fondamentale vincere a questa, ma vincere così, con anche la seconda linea, che è Misse che ha ritrovato fiducia dopo gli errori che ha fatto le altre partite, con Darmian, con Pavard che ha ritrovato fiducia, tutti adesso, e Danfels che è stato criticato adesso, Danfels ragazzi, nelle ultime 5 partite è stato il migliore in campo in tutte le partite, quindi dico, noi stessi non critichiamo i nostri giocatori, possiamo dire uno è almeno in forma dell'altro, però ragazzi, io sono detto a criticare Danfels, Danfels è uno dei migliori alle destre che ci sono in Serie A, e anche l'Europa, io non lo tergiorerei mai dalla titolarità, si crea sempre un pericolo se gli dai fiducia, se tutti gli danno fiducia, e lui adesso è in fiducia, ma sono tutti, tutti forti, Zerinsky sta diventando Zerinsky, oggi nel suo ruolo ha fatto un grande partitone, però vorrei dire una cosa, non è che l'Arsena era forte, l'Arsena ha fatto bene azioni del Venezia, il Venezia ha fatto un pittino in porta domenica in campionato rispetto all'Arsena, oggi è stata l'Inter che gli ha fatto fare questa partita qua, l'Inter ha fatto fare all'Arsena questa partita qua, perché l'Inter serviva a fare questa partita qua perché doveva centellinare le forze, l'energia, l'Inter domenica c'è una partita importante che se la vince, ragazzi, dà morale a tutti, dà morale e ci dà morale per affrontare le prossime partite con molta più serenità, e oggi è stata una partita fondamentale, ricordiamoci questa data, la vittoria con l'Arsena è molto importante, molto importante e vincerà così, grazie qui a Manchester ci sono pure i conigli, adesso in quadro 1 se ne viene, c'è un solo da Milano, ci sono pure qua a Manchester, a parte quello che non so, volevo dire, la bella squadra, oggi potranno di quello che vogliono, abbiamo sofferto, neanche un tiri importo, oggi pochi tiri importo, io preferisco così, pochi tiri importo ma portano a casa i risultati, Thuram, adesso deve ritornare a segnare, Lautaro deve ritornare a segnare, dal Napoli in poi voglio vedere una grande Inter, come l'ho vista oggi, è tanta roba ragazzi, comunque siamo a fare prima in Europa, bella storia, bella storia, bella storia e, vediamo adesso con l'Ipsia, la prossima con l'Ipsia a San Siro ancora, e lì vorrei vedere un po' di gol, perché se ricordate servono di gol, perché comunque non è solo, non subiregolo ma anche serve a fare gol, la differenza è molto importante in questa Champions League, oggi il Barcellona ne ha fatti altri 5, il Bayern mi sa che ha vinto, e ha vinto anche l'Atletico Madrid contro il Paese di San Germano, quindi diciamo che quelle che avevano perso si sono un po' rifatte, e l'Atalanta, l'Atalanta è andata 8 punti, il Barcellona è nel 9, però ha vinto l'Atalanta contro Stoccata, anche la Juve non ce l'ha vinto, quindi quelle che sono messe un po' male, sono Real Madrid, Juve, Smiljan, c'è solo un po' di squadre attardate, lo stesso Manchester City, che ieri ha perso, 4 poppino, la Champions League, questa Champions League è bella, io dico che noi già possiamo giocare per vincere, e ve lo dico, ve lo dico adesso, io voglio andare, dove facevamo la finale, ma voglio andare dove facevamo la finale, il giorno della finale, Clash per l'Inter, quindi spero che anche voi, siete positivi come me, e come anche il Bausch, perché ho anche lui vuole andare là, non mi ricordo dove la giochiamo però, dove la giocheremo, ci andremo, vero Sergio, un grande abbraccio, good night, come si dice qua, c'è la squadra, forza Inter, alla prossima, ah, e domani scuola Pagella, le farò lo stesso, facciamo,